Musica Ben trovati con l'informazione di RT Calabria, edizione delle 14 rigorosamente in diretta. La sanità in apertura, provvedimenti assunti della giunta in tema di sanità, sono stati al centro della conferenza stampa che il presidente della regione Mario Liverio e la presenza dei subcommissari Pezzi e Urbani ha tenuto nella sede di Palazzo Alemannia Catanzaro. Ma vediamo il servizio. Lei ha parlato di un'assunzione di responsabilità della regione rispetto ad un ritardo ingiustificato del governo in merito alla mancata nomina ancora oggi del commissario per la sanità in Calabria. Ma noi rispetto al fatto che ci sta tardando nella nomina del commissario, quindi nella decisione di dare una guida alla sanità calabrese abbiamo deciso di assumere un provvedimento eccezionale. Abbiamo convocato la giunta in via straordinaria, abbiamo invitato i subcommissari, il dottor Urbani e il generale Pezzi a partecipare con noi alla discussione, a fare un esame della situazione perché ci sono punti di grave criticità, in modo particolare nei pronto soccorsi, nei servizi di emergenza, rianimazione eccetera. Noi abbiamo una carenza di personale che sottopone a rischio il personale carente che c'è. Io devo ringraziare gli operatori sanitari e parasanitari che si sottopongono a un lavoro stressante e però operano in una condizione di rischio per far fronte ai servizi di agnostica, radiologia, PET, TAC eccetera che anche questi sono carenti di personale. Noi abbiamo per quanto riguarda per esempio esami di agnostica, la PET, una lista d'attesa enorme. Abbiamo decine e decine di calabresi che sono costretti a ricorrere all'esterno della Calabria mentre poi c'è la PET di Reggio Calabria che è pronta per essere messa in attività e non è stata messa in attività perché è carente di personale a struttura ospedaliera di Reggio Calabria. Si parla di 105 assunzioni. Abbiamo deciso sulla base di questo primo esame di chiedere ai subcommissari e vi ringrazio per aver accolto questo nostro pressante invito di attivare i concorsi per quanto riguarda 105 unità che sono state stabilite sulla base di un esame delle situazioni di maggiore criticità ripeto nei servizi di emergenza e urgenza e per la diagnostica nelle strutture hub di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio Calabria nei tre grandi ospedali. Subito dopo, nei prossimi giorni, procederemo ad un esame degli ospedali cosiddetti SPOC perché anche lì c'è una situazione di criticità enorme per quanto riguarda i servizi di emergenza e urgenza e procederemo ad un secondo blocco per il quale chiederemo l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi da parte dei subcommissari. Salve a guardare i posti di lavoro e garantire ai malati la possibilità di essere curati nel posto e dal personale che li ha accompagnati finora al calvario del cancro e quanto chiedono ai soci, ai subcommissari, ai ministeri e agli ammalati di Fondazione Campanella e dei tagli nel servizio. Nell'avvertenza della Fondazione Campanella che vede impegnati medici e personale paramedico si registra anche la protesta dei malati oncologici che esprimono il loro disagio conseguentemente alla chiusura della struttura sanitaria d'eccellenza. Voglio fare una proposta a queste persone che hanno deciso di chiudere questa struttura siccome sappiamo che si sta chiudendo perché c'è un debito, logicamente io volevo fare una proposta loro sicuramente avranno un bel stipendio mensile tutte queste persone che lavorano per la Calabria e che decisano queste cose che mettano una sommetta ciascuno facciano un'opera di bene e vengano a pagare questo debito invece di chiudere le porte alle persone che soffrono per la vita 5.000, 6.000 euro per voi che cos'è? Una vacanza dopo tutto per noi invece 5.000 euro sono stati 10 giorni di Milano 11.000 anzi per l'esattezza mettete lì quanto siete 20, 30, 5.000 euro 20, 30 persone è un bel gruzzoletto da andare a mandare avanti questo ospedale, questa struttura quindi questo è il mio è un guanto di sfida io che faccio a queste persone mettete le mani nella tasca invece di scrivere le chiusure le sentenze e venite ognuno di voi fate il vostro dovere e aprite e fate una cosa importante per queste persone solo questo volevo dire ho scoperto di avere un tumore e grazie alla dottoressa che oggi mi sono salvata e a tutti i medici che sono qua che mi hanno fatto capire cosa dovevo fare cosa non dovevo fare io ho dei parenti che ancora non sanno che ho un tumore per oggi mi sono fatta viva davanti a tutti per tutti non voglio fare la fine dei miei genitori io i miei due genitori sono morti con un tumore mi auguro almeno di poter vivere un po' con mio figlio e godermi mio figlio a vederlo sposato tutto là ma le hanno già detto che dovrà essere trasferita sì e ieri mi hanno detto che doveva essere trasferita glielo ho supplicati per continuare perché dove vado io per vedere qui ci vogliono un'ora io se devo andare alla provincia di Reggio ci vogliono due ore di pullman dopo una chemioterapia come si fa a viaggiare due ore di pullman lei da dove viene? è da Stilo Reggio Calabria hanno fatto con gli ebrei quando gli hanno dato il gas da sopra i tetti tu lo stai facendo con noi basta non voglio dire più niente ringrazio voi i giornalisti ringrazio tutti che siete persone umane però signora prefetta guardati il film dei nazisti e pensa ai nostri visi ricorre oggi il decennale della morte in Iraq di Nicola Calipari dirigente del sisme ucciso per errore da un soldato americano nel corso dell'operazione di liberazione della giornalista Giuliana Sgrena quando gli americani cominciarono a sparare Calipari proteste con il suo corpo all'ostaggio liberato morendo al suo posto una morte assurda per molti versi ancora misteriose per la quale nessuno ha pagato la colpa lo ha detto Rosanna Scopelliti capogruppo del nuovo centrodestra alla commissione difesa della camera e presidente del comitato beni confiscati presso la commissione parlamentare antimafia a distanza di dieci anni da quella tragica vicenda ed ha continuato la parlamentare in attesa ancora di una pagina definitiva di verità e giustizia voglio esprimere il mio affetto e la mia vicinanza a tutti i familiari del compianto Nicola Calipari e apriamo ora la pagina di cronaca controlli a tappeto della guardia di finanza Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria individuati 30 lavoratori regolari e culminati sanzioni pecuniarie per 120 mila euro ma vediamo il servizio Gli uomini della guardia di finanza di Reggio Calabria nell'ambito dei controlli in materia di impiego di manodopera irregolare hanno sottoposto a controlli 40 ditte nella zona di Villa San Giovanni tra ambulanti operatori del settore idile pianificatori e ristoratori in particolare sono state verificate 50 posizioni lavorative 30 delle quali sono risultate irregolari in quanto i lavoratori sono stati assunti o impiegati senza la preventiva comunicazione ed instaurazione del rapporto di lavoro all'ente previdenziale l'attività di servizio ha consentito di constatare violazioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale e di irrogare le maxi sanzioni previste dalla normativa vigente per l'impiego di lavoratori in nero per oltre 120 mila euro complessive se pagati in misura ridotta la normativa vigente prevede infatti per ogni lavoratore non assunto regolarmente la sanzione da 1950 mila 15.600 euro maggiorata di 195 euro per ogni giornata lavorativa prestata in maniera irregolare l'operazione ha permesso di conseguire risultati che attestano ancora una volta l'alto livello di attenzione istituzionale verso fenomeni di illegalità e concorrenza sleale soprattutto a salvaguardia di quelle aziende che pur faticosamente in un contesto di grave crisi economica e finanziaria continuano ad operare nella piena legalità e nel rispetto delle regole e nella notte a Reggio Calabria un ordigno esploso davanti alla sede di un'agenzia di scommesse esita in piazza Carmine nonostante l'ora notturna erano diverse le persone presenti l'agenzia infatti si trova di fronte ad un bar spesso affollato e aperto anche di notte sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che hanno subito avviato le dovute indagini secondo una prima ricostruzione gli autori sarebbero due persone che a bordo di uno scooter avrebbero lanciato l'ordigno dandosi poi alla fuga e ancora la cronaca gli agenti della polizia di stato hanno tratto in arresto un 25enne romeno per guida in stato di ebrezza fuga a seguito di incidenti stradali con danne a persone e cose omissioni di soccorso e lesioni personali si tratta di Vasile Itzvoreano Ancuta residente a Rossano in provincia di Cosenza il giovane nella serata di ieri è stato notato da una volante in servizio nel centro di Rossano mentre era alla guida di una scoda Octavia con targa spagnola e procedendo a forte andatura nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria gli agenti sono riusciti a far accostare l'auto solo dopo un inseguimento all'interno dell'automobile c'erano anche un altro cittadino di nazionalità romena di 27 anni trovate poi anche numerose bottiglie di birra e di bevande alcoliche e voltiamo pagina con il sindaco di Cutro Salvatore Migali abbiamo parlato dell'inizio dei lavori al parco degli scacchi vediamo Sindaco Migali vogliamo parlare del parco degli scacchi è tutto pronto sono partiti i lavori? Sì, sono da alcuni giorni che sono iniziati i lavori della ristrutturazione di una struttura che è fine ottocento inizio novecento dove negli anni cinquanta sessanta c'era l'asilo infantile delle suore ed è un palazzo diciamo anche importante di Cutro dove in passato ci sono state anche le istituzioni perché c'è una foto con le bandiere noi adesso lo stiamo ristrutturando attraverso un progetto dei PISL di un importo di 547 mila euro e da alcuni giorni sono iniziati i lavori veramente qualcosa di importante diciamo per il paese perché parco degli scacchi? il parco degli scacchi perché è un progetto che si inquadra nelle manifestazioni scacchistiche che noi svolgiamo nel nostro paese ormai da più di vent'anni c'è il torneo internazionale di scacchi e c'è la partita scacchi vivente parco degli scacchi perché vogliamo caratterizzare Cutro attraverso questo nobile gioco come si diceva una volta perché ha un personaggio sul quale è fondata anche la storia di queste manifestazioni che è Leonardo Di Buon ha detto il Puttino che come voi sapete vinse questa famosa partita alla corte del re Filippo II di Spagna nel 1575 in questa struttura sarà realizzato un laboratorio di scacchi una sala con la riproduzione del quadro di Luigi Mussini del 1886 dove raffigura questa partita e in più ci saranno anche una biblioteca per diciamo scacchistica e tutta una serie di attività che riguardano questo gioco insomma è uno dei progetti finanziati con il PISL ma ce n'è anche un altro finanziato con il PISL sì la via Crucis che è anche in fase di realizzazione sono due progetti che sono in corso di esecuzione che dovranno essere completati entro dicembre rendi contati entro il 31 dicembre 2015 Cutro ha utilizzato questi finanziamenti dei fondi strutturali europei attraverso anche una collaborazione con la provincia di Grotone e la regione Calabria e diciamo regolarmente sta portando avanti i lavori e sicuramente li rendi conteremo nei tempi previsti fare rete il rafforzamento delle buone prassi nel contrasto alla violenza di genere è stato il titolo del convegno ospitato dal Museo del Presente a promuoverlo l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Rende ma vediamo i dettagli nel servizio convegno al Museo del Presente di Rende sul tema fare rete e rafforzamento delle buone prassi nel contrasto alla violenza di genere una iniziativa fortemente voluta dall'assessorato alle pari opportunità rendese che ha sancito l'entrata del Comune nel circuito locale territoriale che si occupa del contrasto alla violenza di genere il primo della provincia ad aver effettuato questa scelta dopo la sottoscrizione del protocollo ANCI-DIRE lo scorso ottobre e col chiaro intento di attuarne le linee guida dando un segnale tangibile di quanto in materia di violenza di genere ci sia ancora molto da fare Avremo con noi relatrici estremamente qualificate sul punto e fra le finalità più ambiziose vi è proprio quella di riavviare la rete territoriale che esiste da anni ma che è in una fase in cui opera con meno vigore quindi uno degli obiettivi di questo incontro oltre ad evidentemente popolare un dibattito pubblico sul tema e quello anche di riannodare le fila di una rete territoriale nel tema del contrasto e la violenza di genere l'incontro ha mostrato una trade union dunque tra le forze sociali del territorio impegnate nel contrasto alla violenza di genere seconda parte della nostra informazione riprendiamo occupandoci di Expo 2015 perché mancano soltanto 60 giorni all'apertura dell'esposizione la fiera dell'agroalimentare che aprirà i battenti il prossimo primo maggio a Milano ma vediamo il servizio manca davvero poco all'inizio di Expo 2015 e nel cantiere della fiera in questi giorni sono stati provati gli impianti di sonorizzazione di tutta l'aria un'emozione grande soprattutto per tutti gli operai che in questi mesi stanno lavorando a ritmi altissimi il cantiere ormai va avanti anche più delle 20 ore su 24 che erano state decise fino ad un mese fa 4.000 uomini e circa 60 giorni di tempo adesso che sempre più si capisce come sarà il cantiere di Expo ricorda l'allestimento di un set cinematografico dai tre piani tutti in legno del padiglione dell'Angola ispirati all'imbondeiro sacro del paese che poi è un tipo di baobab fino alla foresta di Loto che circonda il padiglione del Vietnam allestito da circa 30 vietnamiti venuti apposta così come gli scalpellini di Kathmandu che in un silenzio da monaci stanno scolpendo in diretta ogni colonna e fregio del padiglione tempio del Nepal e ci saranno oltre 21.000 tra alberi piante e cespugli di ogni genere più 4.400 bagni non chimici ma bagni veri dislocati un po' ovunque perché in 20 milioni verranno alla fiera a mangiare e bere qualche paese è un po' più indietro non è certo che Ecuador Romania e Turchia il primo maggio siano pronti anche l'Olanda è un po' in ritardo ma era partita per ultima dicono gli organizzatori poi recupererà intanto però già ora si può fingere di entrare all'Expo come veramente si farà dal primo maggio si può percorrere la passerella Triulsa che scavalca la ferrovia e immaginare di essere già dentro come succederà dopo aver passato i tornelli all'uscita della stazione metro di Ro Fiera oppure fermarsi nel grande piazzale in faccia al padiglione zero dove ci saranno i cancelli per chi salendo dal sottopasso accanto ai binari arriverà alla stazione FS passante il commissario Giuseppe Sala è comunque ottimista su tutto e in un'intervista al Corriere della Sera afferma in particolare sono tranquillo dopo che il governo come è noto ha finalmente sbloccato gli ultimi 60 milioni mancanti all'appello sono molto ma molto contento per la copia della Madonnina che avremo dal Duomo perché non potevamo sperare in un'icona milanese migliore e sono contento per il palinsesto degli eventi che ci viene sollecitato da tempo e che però è ormai in fase di definizione presto sarà pronto anche lui Con Dick Brent invece direttore dello Iacocca Institute abbiamo parlato del programma per adolescenti con aspirazioni imprenditoriali l'iniziativa organizzata dal consorzio Jobel si è svolta presso la Camera di Commercio di Crotone vediamo Questa mattina c'è il grande onore se vogliamo di avere qui presso la Casa delle Impresse Camera di Commercio a Crotone Mr. Brent diciamo che è un esempio per quello che è il mondo del commercio e che oggi ha scelto il nostro territorio come mai e perché si è interessato anche a questa forma di soluzione per portare i giovani crotonesi in quello che è il grande territorio americano Thank you very much I have been coming to Italia Mr. Brent è da 15 anni che viene in Italia che promuove questo progetto è una borsa di studio peraltro intestata ad un italiano di Jacocca e quindi è con molto piacere che torna ogni anno qui in Italia in particolare in Calabria è un programma rivolto a giovani imprenditori e anche studenti che si riuniscono in America per confrontarsi con questo programma ci sono circa ogni anno 130 studenti che vengono da tutte le parti del mondo quindi è da 15 anni che questo programma è in itinere quindi migliaia di studenti e di imprenditori da ogni parte del mondo sono giunti da quando il progetto è cominciato io sono uno dei 200 studenti anzi delle 200 persone coinvolti in questo progetto da quando è cominciato all'inizio questa opportunità è stata concessa a delle persone che avevano residenza che lavoravano a Milano poi la situazione è cambiata hanno deciso di dare questa opportunità a chi aveva meno chance a partire da noi in Calabria un consiglio che può dare con la sua grande esperienza per quanto riguarda proprio il mondo del commercio a tutti i giovani che oggi sono qui presenti e che ascolteranno quello che lui avrà da dire in particolare due sono i messaggi che vuole lanciare ai giovani ragazzi il primo è che devono capire come lavorare in team soprattutto in squadra quindi soprattutto quando si è in un contesto internazionale quindi si tratterà dei team composti da gente non solo italiana ma che verranno da ogni parte del mondo e seconda cosa imparare a presentare se stessi in inglese ormai è un contesto globale quello in cui operiamo quindi questa capacità deve in qualche modo emergere nell'incontro tra il sindaco di raggio Calabria Giuseppe Falcomatà e Rocco Lavalle omologo di Villa San Giovanni si è discusso in merito alla gestione dei trasporti e dei collegamenti con la Sicilia e il miglioramento della viabilità nel capoluogo regino il sindaco di raggio Calabria al termine dell'incontro ha dichiarato con il porto di Bolano si realizzerà il porto commerciale della città metropolitana che non creerà problemi ai cittadini decongestionerà le città dal traffico e collegherà direttamente con le arterie autostradali cambiamo radicalmente argomento Gianluca Guidi e Gian Piero Ingrassia sono stati protagonisti sul palco del Rendano di Cosenza della esilarante commedia Taxi a due piazze un ennesimo successo per il programma del cartellone Rendano in prosa continua la stagione Rendano in prosa dopo i sold out dei primi appuntamenti ancora tanta comicità con Taxi a due piazze lo spettacolo decretato dalla critica il più divertente dell'anno sul palco del Rendano un successo per la commedia americana di Ray Cooney Taxi a due piazze che in Italia divenne subito popolare con Gianni Dorelli nella versione di Garinei e Giovannini in seguito con suo figlio Gianluca Guidi prima diretto da Gigi Proietti e poi regista lui stesso in questa nuova versione Gianluca Guidi dirige e interpreta questa classica commedia in cui equivoci scambi di persona doppi sensi e situazioni al limite del paradosso garantiscono due ore di puro divertimento e risate accanto a Guidi Gian Piero Ingrassia in uno spettacolo che deve gran parte del suo successo alla bravura e all'affietamento del cast ma soprattutto all'affietamento tra i due che nel Rendano sono riusciti a creare un'atmosfera quasi familiare Calabria io la amo tantissimo e amo molto la Calabria anche perché ci vengo ogni estate non qui ma insomma qualche chilometro più in là il teatro è bellissimo il Rendano mi sembra di esserci stato qualche anno fa ma è fantastico un teatro bellissimo un'accoglienza meravigliosa bellissima con persone fuori che ti aspettano il teatro io non c'ero mai stato la prima volta che recito il Rendano e sono felicissimo ci si chiede come mai si faccia soltanto un giorno si potrebbe fare una settimana al Rendano in esclusiva per la Calabria al sindaco e anche a Catanzaro che è un bellissimo teatro però il Rendano è storico insomma va detto questo è veramente molto tenuto veramente benissimo e vi facciamo i complimenti devo andare adesso Barbara sarà preoccupatissima non è abituata in ritardo dovevo essere l'Italè stamattina come l'ho messo così dovevo essere l'Italè stamattina presto alle 7.30 Barbara di Chiazzi e me se ti potete aiutare grazie a me eccoci qua sì da Balla del Senario certo guarda quarto ed ultimo appuntamento invece dell'itinerario culturale illustrissimo Castello l'occasione è servita per presentare al pubblico le 13 pagine del codice Romano Carratelli documento originale della fine del Cinquecento di proprietà dell'avvocato Domenico Romano Carratelli vediamo complimenti perché è un progetto eccezionale che noi ci auguriamo tutti possa servire a noi crotonesi a capire qual è la nostra storia non antica ma quantomeno recente devo dire per la verità che l'esperienza di questa mattina è stata straordinaria sia per la partecipazione sia per l'attenzione intanto la location voglia di conoscere e di sapere la location è straordinaria questa scuola è bellissima faccio i miei complimenti alla città ringrazio il presidente tutti i professori e tutti perché ci hanno ospitato e poi ho notato questi ragazzi assai attenti assai incuriositi assai presi dal racconto di questo codice di questo manoscritto che è oggettivamente una cosa straordinaria e che è straordinaria soprattutto per il crotonese io questo lo voglio dire l'immagine più bella del codice è certamente l'immagine di Crotone che è l'unica immagine della città non solo la più antica perché risale alla fine del Cinquecento ma viene presa da terra verso il mare perché siccome la finalità era la difesa allora bisognava guardare il mare mentre in genere l'iconografia successiva è tutto dal mare verso la terra questa è la più bella la più riuscita tecnicamente coloristicamente artisticamente poi la più interessante per me e lo dico con io sono di Tropea c'è un'immagine di Tropea che ovviamente per me è il massimo però oggettivamente uno deve riconoscere poi superata la passione dell'appartenenza deve riconoscere quello che è l'immagine di Capo Colonna è l'immagine più suggestiva e più interessante di tutto il codice perché raffigura come era Capo di Le Colonne prima del terremoto del 1638 quando cadde una delle due colonne e lo raffigura talmente con precisione che addirittura vengono riproposte le scanalature quindi Tempio Dorico Colonna Dorica e poi c'era l'architrave con lo stipite con l'infreggio e quindi è una cosa straordinaria e poi alcune fra le più belle diciamo torri disegni di torri sono quelle proprio legate al Crotrense e poi c'è una cosa anche questa straordinaria che è il castello delle castelle e questa è la più antica riproduzione di questo castello e io sono stato varie volte per tanti motivi l'ultima volta che ci sono stato dopo aver acquistato il codice ho rilevato che la parte guardandola a destra e che avvolge il castello è precisa ancora a questo disegno mentre il resto è stato rifatto rimodulato rimaneggiato ed è precisa quindi Crotone diciamo nel manoscritto ha un ruolo di oggettiva preeminenza di oggettiva significazione ma poi si inquadra ovviamente in questo disegno più ampio che riguarda tutta la Calabria ulteriore quando oggettivamente questo noi adesso noi discutiamo in termini di bellezza di curiosità di interesse storico scientifico per la nostra identità perché questo è un documento fortemente identitario le ricordo che la regione Calabria insieme a tante altre associazioni ha proposto che questo codice manoscritto venga inserito nell'elenco un esco della memoria del mondo si avvicina l'8 marzo e nella puntata di oggi della rubrica curata da Antonio Stajano Dillo a noi abbiamo chiesto alla gente cosa ne pensa della festa della donna e del significato ai giorni nostri ma sentiamo cosa hanno risposto questa è la settimana che ci porta alla festa della donna domenica 8 marzo ma questa festa è divenuta importante nel corso degli anni che significato ha per la donna ma anche per l'uomo è un'occasione per ricordare quanti sacrifici sono stati fatti in precedenza per ottenere i diritti che abbiamo e che molto spesso sottovalutiamo e comunque rappresenta tante cose importanti perché la donna ha raggiunto degli obiettivi importantissimi però ancora c'è molta strada da fare prima c'era una differenza più sostanziale nel ruolo della donna adesso no da parecchi anni che è insomma diverso un momento storico diciamo wow bella domanda per me è un momento in cui la mia donna vive la sua parità col genere umano che è una bella ricorrenza e ogni occasione è buona per festeggiare quindi va benissimo che ci sia nell'immaginario collettivo rappresenta una buona occasione per andare affinché le donne vadano da sole a cena per la società civile che sta perdendo i valori dovrebbe significare il recupero di un ruolo importante importante per la famiglia importante per la società quindi per il progresso dell'umanità sicuramente è una bella una bella festa che bisogna comunque riconoscere il diritto alla donna la donna rimane sempre comunque l'elemento più bello che nella vita si può avere ed è proprio tutto io mi fermo qui grazie per la vostra attenzione vi lascio con lo sport una sconfitta questa che alla luce di quello che si è visto nel primo tempo vi brucia quanto? eh brucia tanto perché abbiamo avuto tante volte l'occasione di portarci in vantaggio secondo me siamo stati padroni del campo per parecchi tratti della gara è normale che dopo una prestazione del genere uscire senza punti dall'Adriatico brucia tanto è venuto qui per giocare la sua partita lo abbiamo visto la sua squadra attaccata dai primi minuti certo fa specie vedere il Crotone ultimo in classifica quando poi ci sono altre squadre tipo Lavellino che fa del non gioco la sua arma così alta in classifica ricordava Totò De Leonardis anche in studio ma guardi noi se non giochiamo a calcio difficilmente riusciamo a portare via punti non riusciamo a speculare sul risultato anche perché abbiamo cambiato tantissimo 21 giocatori tanti ragazzi che vengono dalla Lega Pro e purtroppo stiamo pagando la maturità di questi ragazzi nella girona d'andata e quindi si è costretta ad inseguire però se abbiamo un'identità che dobbiamo continuare a portare avanti perché come dicevo prima non riusciamo a speculare sul risultato e se ci mettiamo tutti dietro sicuramente usciremo anche oggi saremo usciti dall'Adriatico non con 2-1 ma magari con 5 secoli su gruppo avete pagato la legge di Sansovini insomma in poche parole ma le qualità di Marco si sanno è un giocatore importante per la categoria è un giocatore che poi si esalta terribilmente in questa piazza anche oggi le sue qualità hanno portato a favore del Pescara un risultato che secondo me è un po' bugiardo avere una campionessa di una certa caratura è un onore per noi e questo mi auguro che un po' tutti capiscono che debba servire a rilanciare non solo velisticamente Crotone ma sotto tanti altri punti di vista per me è un piacere essere qua è la prima volta che vengo a Crotone e ho trovato anche in Calabria ma praticamente sì perché sono passata diverse volte per andare in Sicilia con la macchina quando ero piccola ho risalito dalla costa in barca però non fermarmi così come ho fatto questa volta per qualche giorno non avevo mai avuto occasione ho trovato un ambiente molto bello molto entusiasta che si impegna tantissimo per cercare di far capire ai ragazzi che lo sport è importante e soprattutto la vela che è uno degli sport più belli perché si praticano in mare si praticano nella natura a contatto con la natura e quindi c'è un insegnamento di fondo molto molto importante e poi ho trovato persone anche umanamente molto splendide Claudio è un grande piacere avere una campionessa come la Sanzini qui a Crutone soprattutto per continuare a propagandare Crutone sì è un'immagine sicuramente di un atleta che ha dato risalto su tutta la stampa nazionale locale ma di questo dobbiamo dire grazie a voi perché lo fate continuamente tutti i giorni con una professionalità unica sicuramente è un'occasione importante ma soprattutto l'occasione importante è quello che ha fatto il gruppo velico avendo oggi battezzato queste barche nel senso proprio di dare questo servizio a tutte le squadre italiane ed europee di venire a Crutone prendere soltanto l'aereo e dare a loro la possibilità di avere già l'imbarcazione qua sul territorio è una forma di pubblicità è una forma di sport sano ma è una forma di turismo una domanda prima di parlare della Sensini per me è obbligatoria il commissariamento del comitato regionale calabresa del CONI avverrà? intanto sono avvenute le nostre dimissioni della giunta regionale del CONI ricordo che la maggioranza si è dimessa si inseguono le voci del commissariamento sicuramente la decisione di Malagò sarà presa il 10 di marzo durante la giunta nazionale attendiamo questo questo momento per dare alla regione Calabria al CONI Calabria un nuovo futuro oggi abbiamo inaugurato 6 imbarcazioni le prime 6 grazie a questo progetto della Comitata Europea della regione Calabria e del club velico questa è la strada giusta la strada maestra per la Calabria per far riprendere questo turismo è il turismo nautico fondamentale è il turismo sportivo se riusciamo a seguire questa strada fatta appunto dal club velico portata avanti al club velico e portata avanti alla nostra federazione vela si può fare tanto per i nostri giovani si può fare tanto per la nostra terra un altro punto a nostro favore non solo dal club velico ritengo per tutta Crotone sì certo perché Crotone diventa a questo punto la base degli allenamenti della squadra nazionale laser diventa quello che Coverciano è per il calcio nella vela questo è un marchio questo è un bollino di qualità questo dà qualità a tutto l'ambiente Crotone a questo punto diventa la meta di tutte le squadre che vogliono venire ad allenarsi oltre alla nazionale italiana e io penso presto anche di tutte le federazioni europee già la campionessa del mondo in carica Monica Miccola che è già stata qua a ottobre ha prenotato per un altro allenamento questa stessa squadra nazionale laser che è qua verrà di nuovo a maggio quindi insomma a questo punto l'attività si è consolidata e queste cose stanno succedendo di fatto ogni settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti